amici ed amico una buona giornata a tutti da un'idea tp eccoci qua finalmente ancora una puntata una delle mie preferite edicola c64 oggi andiamo a scoprire un gioco da edicola che da ragazzino ci giocai parecchio ci giocai molto ma non riusci mai a finirlo pur essendo un gioco molto breve perché non ricordo se era per colpa di qualche bug capitavo qualcosa di strano che capitava non mi permetteva più andare avanti questo o questo ricordo e quindi oggi è venuto il momento è venuto il tempo di scoprire se il gioco si può finire o seppure c'era qualche stranezza da edicola oppure se proprio anche l'originale era così il gioco è puffare ma che bello trovarsi un gioco di puffi sul nostro amato comodo 64 ma che bello e poi gioco sarà bello altrettanto bello ma un gioco non è né un capolavoro né né tantomeno una cosa completamente da buttare però adesso andiamo a vederlo perché è passato tanto tempo che l'ho giocato anch'io e volevo vedere questa cosa è venuto il tempo dopo tanti anni di capire di riuscire a a finirlo questo gioco di puffi che trovevamo in una super com 64 la numero 51 puffare andiamo a vedere di che cosa si tratta e spero di riuscire a finirlo sarebbe una bella cosa riuscire a finirlo oggi perché appunto è passato tanto tempo e io volevo vedere capire se il gioco si poteva finire o meno vita la dura per i simpatici abitanti del bosco la puffetta si è persa quindi bisogna che un abitante del villaggio vada a cercarla a riportarla a casa tu sei il valoroso eroe che si vuole cimentare nell'impresa inscriversi il gioco che importa due premi f1 per iniziare il gioco consiste in un lungo percorso per un insidio e estacoli che devi evitare e superare grazie esclusivamente alla tua forza ed abilità tu infatti puoi solo camminare avanti e indietro e saltare incontrerai molti animali che non deve assolutamente truttare pena la perdita di una delle tre vite a disposizione ed ostacoli palizzate terrapieni che devi anche superare dovrai muoverti anche al buio sì ok anche lì quello lì che dici dove muoverti nelle caverne livello delle caverne che poi è lì dove 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 mi capitava anche il bug sinceramente quindi adesso voglio andare a eccolo qua che ho già già caricato nel frattempo e voglio andare a verificare questa cosa se se si può fare o meno perché è passato tanto tempo e ho il bisogno di finire il gioco di puffi su combo 64 non penso se non mi mancava tanto e neanche all'epoca per finirlo ma fatto sta che per quella cosa lì che adesso non ricordo bene cosa succedeva non sono mai riuscito a finirlo tra un secondo ci proviamo insieme a finire questo maledettissimo gioco di puffi sarà gargamella chi lo sa lo scopriremo eccoci arrivati caricato può fare idee di tipi premere f1 per iniziare che tu fu 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 fatto fu fatto bene la musica sentite che musica coinvolgente come parte il gioco ma ma che è sta cosa aspettate ci sono dei mosconi volanti ci sono dei mosconi giganti mosconi volanti mosconi giganti che che uccidono i puffi io posso saltare andare indietro andare avanti abbassarmi non c'è tempo e ma che mondo strano è questo dei puffi devo saltare straccionati e evitare mosconi giganti ma è tutto giusto ma che cosa c'entrano i mosconi giganti ma perché il puffo si fa male saltando la stazionata non è neanche appuntita sembra innocua stazionata ma che partita assurda ma stai già finito partita pennosissima faceva meglio fare quattro partite prima perché non arrivavo quasi alla fine una volta sono tre schermate non è che serve un fenomeno ma ma porno quasi sarà da incazzarsi oggi col gioco di puffi non può farti incazzare il gioco di puffi che aveva stile comunque a me piaceva come ha fatto bene il puffo bello grande anche la moscone gigante troppo grande ma perché poi andiamo a dobbiamo andare a salvare puffetta andiamo a vedere puffetta chi ha rapita no nessuno la rapita si è persa da sola i mosconi giganti qua hanno rapita hanno rapito puffetta ma perché ma perché non ho toccato niente è un gioco bisogna essere pixel perfetto altrimenti altrimenti muori niente non ricorda dei salvataggi ma non volevo ricorda arrivavo anche una volta al punto dove voglio farvi vedere perché oggi non dovrei più riuscire per arrivarci è tutto una questione di non prendere la mosca in faccia e la musica come in calza ti ti la musica come in calza come incazzare mamma mia ok vai vai adesso adesso ho capito adesso ho capito come si fa non è che si vuole un fenomeno perché sono due comande devo andare avanti e saltare le stagionate evitare il moscone in pratica attenzione moscone siamo cauti col moscone mamma mia non saltare sei volte salta solo una volta quando serve ok vai 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 ancora stagionate adesso capito la tattica faccio passare il moscone poi salto la stagionata faccio arrivare il moscone non è così allora pixel perfetto ma non è così difficile infatti sono morto perché lui con la scarpina con la punta della scarpina tocca la stagionata e muore poi incazzare ma come già finito già finito tutte le vite giochiamo seriamente al gioco dei puffi chiamo seriamente gioco dei puffi no ma sempre ma voglio ricominciare fammi ricominciare non posso perdere una vita così e bisogna saltare perfetti la seconda schermata non ci sono stagionate solo moscone ok aspetta perché mi cura quando torna è finita la musica perché perché non ricomincia vai grande puffo non è grande pubblica sarà un po forzuto la faccia forzuto questo qua la faccia da puffo forzuto ma è ancora questo stagionate ma basta voglio arrivare le grotte dove era il punto dove c'è qualcosa che capitava in quel gioco qua che non ti permetteva di andare avanti no cosa è successo perché si fermato ma no ma adesso non fatemi incazzare non fatemi incazzare ce l'avevo fatta ce l'avevo fatta ma la mosca mi ha fregato ce l'ho fatta finalmente attenzione c'è una stagionata perché rallenta stagionata un prato perché dovrei morire a saltare su un prato non sono inspiegabile a questo gioco ma attenzione perché si muore facilmente sono sbaglio il salto muoio quindi ancora dai dai ok fino qua cosa fai puffo perché perché fai così ansi siede poi comandi due cose ma ma di se incepparsi lo stesso e muore muore così inspiegabilmente la musica nel frattempo ma perché non c'è più la musica no aspetta io voglio ricaricare perché voglio la musica non parte più la musica dopo un po oggi giocheremo tutto il giorno gioco di puffi nell'intento di finalmente non sono morto qui l'inizio del moscone l'intento di arrivare alla fine no vai avanti vai avanti non incantarti vai mamma mia ce la puoi fare fatto il pelo al moscone ma ce la può fare no no ma cazzo cazzo se ti incanti cazzo difficile due due cose in croce da fare ma così deciso devo andare presso 20 vite ancora stupidamente va in culo mosca maledetta devo fare una partita poi salvo e posso giocare così male i puffi mamma mia ho fatto il pelo il contropelo il moscone posso andare anche indietro eh ok tanto non c'è tempo guarda che schifosi quei cosi qua oh ah è buffo aspettiamo qua ok oh così si grande grande così Ok Guarda lenta Guarda lenta Attenzione qua il prato che non so perché muori Ma se non salti bene muori Ok, primo stipendato Oh, sono qui Non sono arrivato anche l'altra volta Non so perché ero morto prima Ma ok Salta due volte per sicurezza Grande puffo, grande Dai dai dai, sono quasi la grotta Eccolo qua Qui, non qua, non qua Qua sono all'interno della grotta Ma poco più avanti E bisogna saltare perfettamente Poco più avanti succedono cose Mamma mia Che Non mi permettevano di finire il gioco Almeno così ricordo Grande No, perché E' la prima vita che perdo Perché ho sbagliato Se tu sbagli il saltino di Quel tantino Ma perché No, che dopo devo rifare tutto Sta per finire la musica nel frattempo Poi non tornerà più Oh, ce l'ho fatta Ecco, è qui È qui Arrivavo qui e morivo sempre Perché Perché muori sempre Morivi sempre qui A saltare quei schifosi rani qua C'è qualcosa che Non io capire se Se era perché era buggata la Dai, vai, vai Ce l'ho fatta Perché morivo qua? Sono sicuro che c'era qualcosa di strano in quel No, adesso ho fatto cazzate io Ho fatto cazzate io Ma va l'alentatore Ma ce la fa lo stesso L'ultima vita Attenzione In quelle parti qua Mori Ancora un ragno Non uccidermi C'è un ragno che viene giù Oh, è facile Perché morivo sempre qua? Erano quelle zone qua che morivo sempre Sono sicuro Succedeva qualcosa No Non sono mai riuscito a finire il gioco di puffi Attenzione perché per la prima volta Per me non manca tanto Spero Non sono sicuro di questa cosa Ma Tutto rallentatore Ma attenzione Salta anche questo Non era così C'era qualcosa che Non andava nella mia versione Ok, è un mostro C'è buffetta Dov'è Gargamella? Perché buffetta di sopra? Non c'è nessuno Adesso morirò qui A saltare su quello qua Sono morto Non sono arrivato a buffetta Sono morto alla fine Sono arrivato No, attenzione però Senza trucchi No, ma adesso non c'è più la musica Io rivolgo la musica Perché mi va con la carica giusta E finirò il gioco di puffi per la prima volta Quasi finito Non so perché sono morto Guardi di saltare perfettamente Adesso ho capito Ho capito tutto Vai F1 Vai puffo Tu ce la puoi fare Puoi darmi quella soddisfazione qua Di finire I puffi Sono quattro salti da fare bene Ah E' evitare il moscone Aspetta eh Lasciamo compilare il moscone Ma perché lui ti incula sempre? In qualsiasi posizione tu Aspetti lui ti incula Quel maledetto Perché? Io voglio finirti Gioco senza trucchi Avevo intenzione di usare i salvataggi Ma vai in culo vai Sempre ti frega Senza cazzarmi Possibilmente Vai 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 Voglio finirlo Tu lo aspetti dietro ti incula Se salti ti incula Oh maledetto moscone Andate via Andate via Vai via Povero puffo Disarmato Non può sparare Non può fare niente Posso camminare Abbassarsi Saltare Andare indietro Da solo Indifeso Questi Esseri schifosi Ma dov'è Gargamella? Dove sono tutti? Non c'è nessuno Ci sono i mosconi Però Però Il gioco qua è fascino Vai Non devo sbagliare i salti Se voglio finirlo Perché parlo? Perché parlo? Non devo sbagliare i salti Non devi sbagliare i salti No 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 Non ce la farò mai Finire i puffi Senza trucchi Sarà possibile Finire i puffi Senza trucchi Se gioco così no Se gioco così no Dovevo fare la partita Ma vi rendete conto Che stiamo qua 20 minuti Con quel gioco qua Ma perché Fai così? Perché? Perché? Ce l'avevo fatta prima Poteva finire tutto prima In onore In gloria Invece adesso Proprio mi si fa così Proprio mi fa stupidino così E Mamma mia Dai che sono 4 salti 4 salti e 2 mosche Da evitare Potrebbe tornare benissimo A casa da sola Puffette Cos'era quel teschio Lì in terra Che Ok Riesco a superare Quelle stazionate qua Quelle dei rani Non sembra Sembra facile Eppure io Morivo sempre lì Non so perché Morivo sempre lì Nelle grotte con i rani E non sono mai riuscito A andare avanti Boh Probabilmente C'era qualcosa Che non andava Nella mia cassettina Nella mia cassettina C'era qualcosa Che caricava In maniera sbagliata Dai dai Non morire qua Dai Abbiamo frupperato Lo step dei rani Che è quello più Infame Anfezione anche qua Ottimo Dai 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 Ok C'è anche quel pezzo qua Che Poi ogni tanto va Dai 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 A rallentatore Non so perché Sono quei salti qua Che sono bastardissimi Come tutti i salti Di quel gioco qua Però ha fatto bene Eh I salti sono bastardi Ma se Se muore Perché sbagli te Alla fine Devi essere perfetto Sono qui Non ho perso neanche una vita Finirò i puffi Senza perdere neanche una vita Qua rallenta Qua rallenta Probabilmente Una cosa voluta Per farti aumentare Le difficoltà No 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 E via ragno Non uccirmi Non uccirmi Vai puffo Vai puffo Stalla volta buona Ok Anche qua è facile Anche qua è facile Dove fare cazzate io No 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 Aiuto Scappa scappa Via 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 Corri 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 Ok Ok Siamo vicinissimi Siamo vicinissimi Puffetto Devo solo capire come si fa L'ultimo salto Che sono morto prima Ah no Ci sono ancora due ragni Due ragni innocui Vai adesso Ho sbagliato Ho sbagliato No 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 Ce la fa Ce la fa Ce la fa Vai Ok Qua devo saltare sopra Il teschio lì Non penso Qua va veloce Qua torno ad andare veloce E ce la fa Ce la fa Salva puffetta E il gioco Ricomincia all'inizio Ma perché Ce l'ha fatta comunque Ce l'ha fatta Ho salvato puffetta E Non c'è schermata finale È tutto immaginario Abbiamo salvato puffetta Due mosche adesso Ma no Si proresume Per me non l'abbiamo salvato puffetta Per me Si è inculato anche l'altro puffo Adesso questo è il terzo puffo Che va a vedere Che cazzo I fine hanno fatto gli altri due E il gioco E il gioco Quindi andiamo avanti E andiamo a salvare anche No Round 2 Sì E però con due mosconi Eh Eh Cazzo Devi proprio prendere Oh non avevo perso neanche una vita Finito il gioco di puffi Senza perdere neanche una vita Finito almeno il primo giro Niente Qua è andata così Però Oh Non capisco Inspiegabile il fatto Che non riuscivo A finirlo Ai tempi Ma Secondo me c'è qualcosa Che non è andata Nella mia Nella mia versione O qualcosa Perché non sicuro che c'è Morivi sempre Quando saltavi Nella grotta di Rani Morivi Qualsiasi tipo di salto facevi Probabilmente era buggata La mia versione Nella cassetta Comunque Sono contento Sono contento Perché oggi ho finito i puffi Dopo più di 30 anni Per Comodo 64 Sulla cassettina di radicola Per oggi è tutto E' stato un piacere Alla prossima Ciao Ciao